Ciò di cui non abbiamo parlato può essere il creare un nuovo spirito aggregativo tra artisti, più ampio. Però non lo so, lo vedo tra artisti di ogni genere, non solo artisti che dipingono, fanno scultura, magari anche musicisti, creare un qualcosa insieme. Ecco, questo mi piacerebbe vederlo in futuro, anche qui, da noi, magari in un laboratorio, in un centro, dove uno può esprimere la propria arte in modo più libero possibile.